Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video, oggi sarò velocissimo, era solo un aggiornamento, volevo farvi vedere come ho allestito questo piccolo ball di vetro con delle piante che ho praticamente riciclato dal mio acquario. Quando poto le piante non so che cosa farne, quindi mi sono inventato questo mini ball senza luce, senza filtro, è un'idea molto carina e già è un mese che ce l'ho e diciamo che le piante hanno reagito benissimo, soprattutto queste piccoline nella parte frontale che vedete dove ho creato questo pratino con delle bacoba monieri che crescono anche meglio del mio acquario, vi dico la verità. Diciamo che c'è un insieme di piante, sono circa cinque tipi di piante credo, quindi vi ho detto c'è questa bacoba monieri, poi c'è una nubias nana, un microsorum teropus, del muschio di java e delle valisneria nana. E' troppo carino da vedere, vi dico la verità, è piccolissimo, quindi non ho inserito nessun tipo di pesce o nessuna caridina, ho messo solo delle lumachine, ma diciamo che le lumache vivono benissimo, ogni tanto metto solo un po' di mangime per pesci, però senza esagerare. Non ho dovuto fare nessun tipo di cambio d'acqua, ogni 15 giorni circa inserisco un po' d'acqua perché chiaramente tende a evaporare. Tutte le persone che mi sono venute a trovare a casa mi hanno detto che ne vogliono assolutamente una, è un'idea molto carina, io sono un amante delle piante in generale, sia acquati che non, infatti casa mia sembra un piccolo, una piccola giungla io direi. Però se siete interessati a creare qualcosa del genere potete vedere sul mio canale il video completo, un video tutorial dove faccio vedere passo dopo passo come ho creato questo mini ball. Ho praticamente solo preso un po' di substrato del mio acquario e l'ho ricoperto con un altro strato di sabbia che ho comprato. Dopodiché ho inserito tutte le piantine e come vedete stanno benissimo, è molto carino da vedere, è qualcosa alla moda perché io seguo tante persone su youtube di altri paesi del mondo e quasi tutti ne hanno una, addirittura ci sono persone che inseriscono dei piccoli pesci o delle caridine. Io non sono tanto d'accordo perché penso che in particolare questa bolla è troppo piccola, però in generale si dice che non va bene. Vedete la luce indiretta, ho la fortuna di avere una finestra sul tetto, su questa parte della casa non arriva il sole diretto, solo circa un'ora al giorno però non ha avuto nessun tipo di problemi di alghe, anzi vi dico che le piante reagiscono benissimo. Sono tutte piante per principianti e vi ricordo, non so se inserite altri tipi di piante se avete lo stesso risultato. Comunque ragazzi spero che questo video sia stato utile per qualcuno, se non siete ancora iscritti al canale potete iscrivervi adesso e ci vediamo molto presto con altri aggiornamenti. Grazie, ciao!